Il titolo è Il cuore dell'arte, una mostra di sculture e quadri e il ricavato andrà proprio all'associazione Agbe di Pescara. In questo caso c'è già un obiettivo, qual è? Fino a poco tempo fa avevamo soltanto quattro bambini giornalmente a dei ospite. Adesso abbiamo la media di 20 bambini al giorno, quindi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di appartamenti, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Quindi ecco come dicevi, questo sogno è realizzare ancora tre appartamenti in modo da poter sostenere più adeguatamente tutte le famiglie. È il comune di Pescara a partecipare a questa iniziativa di beneficenza? L'appuntamento è in uno dei luoghi simboli della città? Sì, il Circo Laternino in piazza Garibaldi per sabato 25 alle ore 17. Qui c'è un'iniziativa in cui c'è tanto cuore, il cuore del comune, il cuore dell'Agbe, il cuore dei 32 artisti, pittori e scultori della nostra provincia che hanno donato ciascuno una loro opera che mostra il Circo Laternino e che può essere visionato in questi giorni. Adesso manca un cuore, il cuore speciale dei pescaresi che devono venire, devono partecipare e devono fare delle offerte. Tutto il ricavato consentire a loro di portare a casa una bella opera ma soprattutto di aiutare l'Agbe perché tutto il ricavato andrà in beneficenza a questa associazione. Ospiti d'eccezione per un'asta di beneficenza, un grande amico dell'Agbe, chi ci sarà? Ci sarà signore e signori Ugo Petina Dragotti, eccolo qua. Signore e signori Marco Papa, siamo noi, i battitori liberi. Quindi che cosa facciamo in pratica? Alla fine ci dobbiamo voler bene per questo giorno. Sì dai mettiamo il cuore oltre l'ostacolo, va bene? 25 febbraio, venite tutti quanti. Non mancate ore 17, puntuali. Grazie.